Il motivo è di capire come il mondo, l'idea che si possa andare avanti in un mondo come quello di oggi, da soli, farlo di rile, non stanno in un cielo all'interno, però siccome i popoli devono fare la loro esperienza, qui tutti pensano di trovare soluzioni monopolistiche, la realtà è che abbiamo di fronte i colossi, gli Stati Uniti, la Cina e di fronte a questi solo l'Europa vorrà essere noi.